Sì, allora, è una iniziativa legata alla giornata mondiale del cuore e si celebra ogni 29 settembre. Questa in particolare è stata organizzata da una serie di soggetti, a partire ovviamente dall'area territoriale dell'emergenza 118 della provincia di Rezzo, soprattutto dal suo responsabile, Simone Vicentino, e da tutti i suoi staff. È un'iniziativa, una mattinata che coinvolge le scuole ma anche i cittadini normali che da una parte potranno sottoporsi anche ad esami diagnostici in termini assolutamente gratuiti e dall'altra parte potranno apprendere quelle sono le marombo e salvavigli. Quindi una mattinata di sensibilizzazione importante per cui ringrazio l'azienda ASA Toscana Sud-Est e in particolar modo i responsabili dell'area dipartimentale dell'emergenza 118 della provincia.